Un progetto di inclusione che coinvolgerà i piccoli soci della Canottieri Ticino di Pavia e gli ospiti della RSA San Giuseppe di Dorno. Si tratta di un accordo solidale che impegnerà entrambe le realtà nelle rispettive attività quotidiane. L'iniziativa si declina attraverso l'impegno degli anziani ospiti della struttura nel realizzare decorazioni che abbelliranno le feste dei piccoli soci della Canottieri. Allo stesso tempo saranno invitati a partecipare alle merende organizzate all'interno del circolo. Il progetto andrà avanti tutto l'anno e coinvolgerà dieci ospiti scelti dai responsabili. L'accordo nasce da un'idea. Da un'idea avuta insieme a Simone Perversi, animatore con il quale organizzo le feste e gli eventi per i bambini del circolo della Canottieri Ticino. Simone Perversi lavora presso l'RSA di Dorno in qualità di educatore e un giorno parlando abbiamo pensato di unire le nostre attività dando vita a questo progetto. Un progetto che fa sì che gli ospiti della struttura si impegnino in dei laboratori creativi per la realizzazione delle decorazioni che poi andranno ad abbellire le feste che organizziamo per i piccoli soci del circolo e in cambio saranno invitati a partecipare a delle merende all'interno della nostra struttura. Le finalità del progetto sono molteplici e puntano in particolare a favorire la socializzazione tra anziani e bambini in un arricchimento reciproco. In questo modo gli ospiti della RSA potranno inoltre vivere momenti all'esterno della struttura. L'impegno nel sociale non è secondario nelle politiche della Canottieri Ticino chiamata quest'anno a festeggiare i suoi primi 150 anni di vita. Ovviamente abbiamo coinvolto il direttore della struttura e il direttore sanitario che sono l'ingegnere Emilio Biscaldi e la dottoressa Visconti Giovanna che hanno subito accolto con favore questa nostra iniziativa dandoci la possibilità di intraprendere questa nuova avventura. Trovo più che giusto che la società Canottieri Ticino che è una società storica di Pavia e che quest'anno festeggia il 150esimo compleanno sia coinvolta nel sociale e che coinvolga anche la comunità.